L'amnistia è sempre più necessaria anche se guardiamo al numero dei casi pendenti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, record dell'Italia, 2350 casi pendenti, la maggior parte dei quali per irragionevole durata dei processi, soprattutto nell'ambito civile. Una cifra che spiega tutto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS